amici di deja vu oggi stiamo con loredana errore io sono felicissima di averti qui per questa nostra bellissima chiacchierata benvenuta grazie grazie mille nel piacere tutto mio allora loredana ascoltami prima di andare a parlare subito di questa tua nuova creatura che ormai è già il 30 novembre uscita vorrei fare un passo indietro no nostro è un blog seguito tantissimo da persone molto giovani persone che diciamo anche studiano vorrebbero muovere i primi passi in questo magico o non magico mondo dello spettacolo io domando quando loredana errore ha capito che voleva entrare in questa dimensione ma guarda diciamo forse non sarò molto d'aiuto però forse ancora non ho la consapevolezza quindi non vedo diciamo tutto questo tutto questo diciamo infrastrutture o tutte queste diciamo palazzi vogliamo chiamarli così tutto quello che mi hai messo come avamposto nel partecipare a questo mondo perché perché diciamo che tutto parte da una motivazione personale nelle cose quindi poi se mi vuoi posso dire perché vorrei far parte di questo mondo o perché ancora lotto per il mio sogno perché vado avanti perché credo nella musica questo lo posso ricondurre tranquillamente a sicuramente a una presa voler abbracciare sicuramente una vocazione a voler fare di questa di qui di questo dono qualcosa da veicolare qualcosa che mi possa comunque personalmente prendendo in forma egoistica proprio mi possa far volare aiutare e completare nella vita e spero che questo completamento possa comunque essere un attimo il proseguo di veramente una missione una vocazione che insomma non possa contrastare sicuramente con le alte volontà insomma del cielo e possa maggiormente dimostrare quanto quanto possa essere difficile forse lottare ma quanto può essere facile se lo fai con quella consapevolezza che non è la consapevolezza di essere bravi o di fare quella cosa perché si vuole il successo ma perché parte proprio una motivazione personale perché voglio farlo perché proprio sento il bisogno necessario per sentirmi completa per insomma tante cose che che rompono il silenzio di tanti di tanti luoghi comuni che può essere ce la voglio fare perché gli altri ce la fanno nel senso che per moda o perché voglio diventare magari voglio provarci per gioco ecco lì forrei la mia attenzione magari farei più attenzione quindi non so se le mie parole hanno reso chiaro il concetto chiara e trovo molto importante quello che hai detto cioè partire da una motivazione che contraria cioè non la ricerca del successo il successo casomai è una conseguenza sì e può essere un tramite per veicolare quella motivazione che guarda caso magari veramente può essere d'aiuto a tanti che l'ascoltano in musica in parole in modo anche di comportarsi perché diciamo una lunga oggi magari non oggi perché siamo nel 2020 perché magari nel 1990 dicevamo anche oggi quindi è tutto un tempo che si ripete sempre però siamo chiamati a dare delle testimonianze di vita che dobbiamo comparare secondo me è quella nostra coscienza quindi dire che nella musica ci vuole tanta pulizia tanta purezza tanto candore secondo me è di rigore è di rigore perché non dobbiamo mai dimenticare che gli artisti nascono proprio sono gli eletti da dio per veicolare dei messaggi magari una forma diversa da quello che è la comune consuetudine quindi tante cose su cui lavorare secondo me è da testimonianze momenti come viene messa un po veramente a dura prova e che le prove diciamo non devono essere il nostro demotivatore personale incoraggiarci a poter puntare su su noi stessi e a poter dire che se siamo in vita un motivo grande c'è quindi liberiamoci di questa di questa a volte responsabilità che ci fa affannare ma viviamo proprio in grazia in grazia di essere qui che sicuramente la nostra presenza funge da grande 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 energia bellissimo tutto quello che dici tra l'altro come detto tu in un momento come questo dove abbiamo anche provato un'ennesima esperienza cioè quella che comunque ci hanno tolto molto no ci hanno tolto in là diciamo di sì 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 diciamo di sì però il fine di togliere sempre quello di aggiungere secondo me quindi se possiamo sempre vedere il lato positivo da questo togliere c'è in aggiunta la vita che ci torna sempre presente sicuramente il live è qualcosa che te lo dico a tema lo dico col grande sorriso ai miei fan non vedo l'ora che si riattivi il tutto e possiamo ritornare a cantare questo nuovo album appunto c'è vita che è stato c'è vita capisci tutto questo solo alla fine è esattamente ciò che mi hai raccontato fino adesso c'è la migliore che tu potevi fare il tuo album grazie guarda è tutto è la vita stessa che parla quindi quindi quando c'è da rimboccarsi le maniche sicuramente quando si ce le rimbocca quando si crede quando si spera la vita ti sorprende mai mi sarei aspettata questo 2020 di poter festeggiare questi dieci anni di carriera con questo bellissimo album che veramente è nato da da un miracolo io direi proprio un miracolo proprio perché stato inaspettato però come grande gioia appunto alla bellezza comunque di essersi realizzato quindi oltre ogni aspettativa quindi questo possa essere anche da mentore che la vita ti può regalare le cose anche se non te le immagini ma le desideri con tutto il cuore e poi diciamo cosa hai fatto tu perché tutto si realizzasse ho creduto ho sperato e l'ho voluto con tutto il mio cuore bellissimo tra l'altro nell'album ci sono inediti e invece ci sono anche due frani meravigliosi che uno è la ripresa di un tuo grandissimo successo sì e ragazzo occhi cielo no che ti ricordo chi non ti ricordo e invece un altro brano clamoroso che è la cura di battiato sì perché la scelta della cura di battiato beh la cura è stato il primo brano guarda come mi è stato presentato questo progetto dalla mia etichetta discografica marco rossi il mio produttore che ringrazio per questo veramente lancio per questo inizio la cura dobbiamo dire che per me è stato l'atto conclusivo è stato l'atto più benedetto una cura fino dentro l'anima dopo un incidente del 2013 che mi ha messo veramente a dura prova quindi la cura è stato un po se dobbiamo dire il premio l'atto conclusivo che forse veramente avvenuta questa grande cura con questo album poi celebrativo è dedicato tutto alla vita per tutto quello che mi ha permesso mi permette di vivere contro tutte le realtà e le apparenze che erano ben poco rassicuranti quindi questo ritorno questo essere questo è un po anche una nuova loredana che torna una nuova sicuramente perché le nostre cellule si rinnovano sempre quindi ben venga l'evoluzione ben venga tutto rinnovamento però diciamo l'anima del fanciullo l'anima del bambino quello che per natura dio ci ha dato lo proteggo lo proteggo e non lo voglio perdere insomma perché poi quello che ci fa che ci rende unici e ci rende insomma poi catene umane contenitori di energia che uno tratta dopo l'altro diventano proprio dei messaggi che ci rendono tutti uguali tutti diversi ma è tra l'altro quindi tu fai questo bellissimo discorso mi nasce una domanda che sicuramente tanti ragazzi ti vorrebbero fare no tu hai avuto il grande clamore partecipando al talent al talent forse più famoso che ci siano amici questa questa esperienza anche diciamo in questa nuova loredana cosa ti secondo te ti ha lasciato intanto mi ha lasciato la possibilità di parlare in questo momento con voi con te in questo momento mi ha aperto tante porte ma nel mentre che partecipavo a questo grande programma ho avuto la possibilità di di studiare per sei mesi di dedicarmi per sei mesi esclusivamente alla musica e per me è stato il momento più celebrativo è importante per affrontare per studiare approfondire per veramente mettere a fuoco dei tasselli vocali tecnici mi ha fatto incontrare persone incredibili una grande professionista è madrina della televisione ma di noi ragazzi come maria dei filippi che il maestro beppe vesticchio che comunque è l'emblema insomma per chi sogna sanremo anche una continuità nel pensarlo insomma tanti professionisti il di zervi tuttanta tanti provvedendo una grande gente che una grande crescita musicale quando si dice è solo una vetrina no no ma quello parte quello parte sempre dalla motivazione io ero proprio motivata a partecipare a questa scuola per essere sicura per avere questo opportunità di poter studiare giorno per giorno di confrontarmi con le canzoni diciamola tutta sei mesi ad amici sono come due anni di scuola cioè vissuti in quel in quel modo senza avere la preoccupazione di dover preparare da mangiare doversi vestire quindi aver solo quello quel tipo di piacere no di pensiero quindi è tantissimo è tantissimo poi anche immagino il brano di con viaggio antonacci insomma è stata una sì dove sono partite sì appunto dove sono partite tutta la mia storia artistica tantissimo sì infatti io permettimelo lo ringrazio per tutta la vita per avermi comunque intitolato questo cioè questo grande veramente spazio come il cielo che è veramente così sacro così etereo quindi veramente in punta di piedi non potevo che insomma ricevere un un mignolo più bello tra l'altro nel nuovo disco ne hai fatto una rivisitazione assolutamente per mesi meritava di essere con me e di ripartire con questo c'è vita dopo dieci anni che è stata che è stata insomma quante che lavorava il nuovo disco e tutto il 2020 è stato tutto il 2020 che ha vinto ha vinto anzi ha vinto la musica infatti inaspettatamente questo album è andato perché è successo tutto questo me lo chiedo sempre me lo chiedo sempre veramente con grande stupore mi accorgo di quanto la vita ti possa sorprendere ma chi se lo aspettava però l'ho tanto desiderato che è successo è incredibile come si sia fatto strada questo grande sogno di festeggiare questi dieci anni con un album di carriera insieme ai miei fan infatti ero preoccupata perché dicevo ma adesso no dieci anni di carriera come faccio a festeggiare musica con loro e invece ce l'hai fatta e ancora sì non si parlava di pandemia quindi non c'erano quei quelle preoccupazioni che avrebbero comunque calvanizzato il tutto e l'ansia rispetto a quel momento prima in cui ci però uscire con un brano in un anno come questo cioè con un album che si chiama c'è vita direi che proprio fare la quadra veramente guarda perché la vita merita tanto veramente in tutto e per tutto ogni sua forma di vita ogni rispetto della vita tende che dopo aver vissuto un'esperienza difficile come quella che tu hai vissuto sicuramente guardi la vita con altri occhi li guardo sempre con gli stessi ma più ricchi più ricchi e più meno 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 incentrati sul mondo terreno su quelle cose che possono che possono somigliare a presunzione superficialità distrazione ecco adesso c'è una tensione diversa magari bellissimo i tuoi occhi guarda lo dicono tantissimo è proprio bello cambiare grazie assolutamente e ascoltami adesso che noi speriamo presto questa pandemia finalmente ci lasci un po cosa c'è nel tuo futuro beh il mio futuro sicuramente di portare nel live questo grande progetto insieme a tante perle che mi hanno fatto compagnia da dici anni a questa parte sicuramente c'è la volontà di crescere sempre di più di misurarmi con nuovi brani però in questo momento teniamo tutta l'attenzione alla riapertura del settore che insomma assolutamente è questo quello che si lo sguardo va lì sicuramente c'è Sanremo che il mio più grande sogno lo voglio dire è il tutti lo sanno per domandare pensa ti dicevo volevo chiederti questa cosa e tutti lo sanno questa cosa quindi insomma tengo sempre il mio cuore in caldo per questo sogno so che un giorno o l'altro si realizzerà e quindi mi mantengo pronta per quel momento Loredana noi ti aspettiamo di sicuro quando grazie noi ci saremo a sostenerti allora il tuo disco è già in distribuzione quindi tutte le piattaforme eccetera eccetera lo possiamo trovare io ho ascoltato alcuni brani ed è meraviglioso grazie 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 ma io ringrazio tutti permettimelo di dire ringrazio tutti quelli che veramente hanno lavorato a questo album tutti gli autori e la mia etichetta discografica music veramente tutti i cuori che hanno contribuito alla nascita di Cevita a tutti i miei fan che hanno aspettato insieme a me questo momento insomma anche ci siamo anche vicino a Natale quindi direi potrebbe essere Cevita a uno splendido regalo di Natale grazie mille davvero di cuore io ti abbraccio spero di venirti ad applaudire presto dal vivo e in bocca al lupo per tutto ma grazie veramente per averci regalato queste belle parole oggi viva e lupo è veramente grazie a voi buon Natale a tutti nel cuore anche a te grazie